Ragazzi buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, sto registrando questo video mattina presto, è già mezzogiorno Tra l'altro mi sono preso un caffè ma non mi ha fatto niente, quindi le cose sono due O registro il tutorial solo di Polligio, oppure ragazzi devo cambiare marca di caffè perché è questo proprio Oggi vediamo un brano ragazzi che è passato tanto tempo, ogni giorno di più degazzosa Sto cercando al computer che anno era perché manco mi ricordo, l'ho cercato sul telefono che c'ho sto computer che va a Cricetti Era il 2002, io c'avevo 12 anni e vi dico una cosa, che i gazzosa per noi erano praticamente la massima ambizione Nel senso che tutti quelli come me che comunque da ragazzini già suonavano, ovviamente ambivano ad arrivare lì dove stavano loro Vedere loro in tv ti faceva sentire che anche tu magari potevi farcela Le versioni che si trovano in rete la maggior parte sono in sol maggiore Quella originale proprio di gazzosa mi sembra che fosse si bemolle maggiore E noi avevamo un do maggiore Cominciamo a vedere subito gli accordi Io se continuo così mi sa che casco per terra Do maggiore Indice sul primo tasto della seconda corda Medio sul secondo tasto della quarta corda E anulare sul terzo tasto della quinta corda Re quarta Mignolo sul terzo tasto della prima corda Anulare sul terzo tasto della seconda corda E indice sul secondo tasto della terza corda Fa maggiore Barre al primo tasto che preme tutte e sei le corde Medio sul secondo tasto della terza corda Mignolo sul terzo tasto della quarta corda E anulare sul terzo tasto della quinta corda Sol maggiore Anulare sul terzo tasto della prima corda Indice sul secondo tasto della quinta corda E medio sul terzo tasto della sesta corda La minore Indice sul primo tasto della seconda corda Anulare sul secondo tasto della terza corda E medio sul secondo tasto della quarta corda Cominciamo dalla strofa I sorrisi che mi fai Fanno bene al cuore E ci può succedere Di restare un po' di più Lo vuoi certo anche tu Liberamente vicini Adesso c'è uno special Un bridge dai Forse mi comprenderai Forse no Ma io ci proverò E adesso abbiamo il ritornello Ogni giorno di più Impariamo ad amare Cresciamo piano piano Insieme Ogni giorno di più Ti potrò rincontrare Questa sera pensa La gioia immensa Che aspetta noi Seconda strofa uguale Secondo special identico Andiamo direttamente al secondo ritornello Dimmi come sarà Fammi ancora sognare Ha molta importanza Per me Entra nell'anima Come un raggio di sole Ogni giorno un fiore Di un nuovo colore Ogni giorno di più Io ti devo parlare Sei tu che mi manchi E sei in me E sei in me Ogni giorno di più Dritto fino al mio cuore E stammi accanto E pensa A questa Gioia Immensa C'è il ritornello Voi vedi che me devo prendere il caffè Volevo dire che qui c'è l'assolo di chitarra Niente rega Andiamo a faccio a svegliarmi E dopo l'assolo di chitarra C'è questo special 2 C'è questa parte nuova Non ti fremare mai 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 E poi riconencio a ritornello Ragazzi questo tutorial è terminato Io vi aspetto al prossimo Fermo Fermo Aspetta un attimo Hai messo like? Hai condiviso il video? Vabbè quello no Perché c'è ma O sta ancora a vedere come fa a condividere Però il like lo puoi mettere Cioè lo potevi mettere Cioè l'hai messo? E ti puoi anche iscrivere al canale Perché sta qui sotto E poi se ti fa piacere Seguimi anche su Instagram E il punto Vabbè è inutile Tutto di questa qua E noi ci vediamo al prossimo tutorial Ma se magliettina station bacon Che mi sono messo oggi Ma io mica dovevo fare chitarista Io dovevo fare il modello E noi ci vediamo al prossimo tutorial